Consigliere, mancano 22 milioni di euro, dove sono? Abbiamo fatto un'analisi più precisa. Perché l'abbiamo fatta solo adesso? Perché l'amministrazione ha avuto una fretta incredibile di portare questo provvedimento in consiglio e ci ha lasciato 3-4 giorni per studiare le carte, cosa che loro avevano già da dicembre 2020. Chiaramente andando avanti nei giorni approfondiamo un po' di più la materia e ci siamo accorti che nel PEF mancano i ricavi delle spese pubblicitarie, cioè degli affitti dei cartelloni dello stadio. 22 milioni di euro che sul PEF non erano stati conteggiati. Quindi l'incasso del gestore, del concessionario, non è più 62 milioni e spicci, ma sarà quasi di 80 milioni di euro. Che cosa aspetta di trovare nella risposta scritta della sua interrogazione? Guardi, noi e l'amministrazione partiamo da due concetti diversi. Tutti i comuni in Italia che hanno rivisto le concessioni, le varianti in concessione, hanno richiesto preventivamente un parerà all'ANAC. Perché è una cosa giusta? Perché se andiamo ad approvare un provvedimento che poi viene cassato, è chiaro che ci sarà un risarcimento danni da parte del concessionario. Quindi è logico richiedere prima il parerà all'ANAC. La norma ci dice che se fosse stata prevista inizialmente una possibile proroga a quel tempo, sarebbe stato tutto lecito. Rispondo a questa domanda, da chi è stata firmata il parere legale del Deloitte? Grazie per la domanda perché questo è meraviglioso. Praticamente ci siamo appellati a un parere di KL, che abbiamo pagato fior di soldi insieme a Deloitte, nonostante i nostri dirigenti insomma. Abbiamo chiesto il parere esterno, come sempre fa d'Alberto in tutti gli ultimi suoi provvedimenti, perché andiamo sempre in gare gli esterni. Quindi, praticamente, KL non c'eravamo accorti che in una nota dove penso ci volessero due paglia di occhiali, peraltro KL non l'ha firmato nessun avvocato, non ha nessun valore giuridico quel testo, dava ragione a noi e ci diceva attenzione, gli ha detto al Comune di Teramo, ha detto al Sindaco, devi riferirti prima all'ANAC, perché è un atto per noi, è un atto nuovo, cioè sono atti aggiuntivi, atti aggiuntivi che meritano un approfondimento da parte dell'anticorruzione. Peraltro, se noi riduciamo i posti auto allo stadio, quei posti auto sono collegati anche alla capienza dello stadio.